ciao a tutti oggi ci troviamo qui a lecce precisamente a ballon party proviamo ad intervistare il grande capo cristiano libardi venite con me eccoci qua allora christian rompiamo un po il ghiaccio raccontaci un po come è nata l'idea di aprire il negozio ballon party lo ricordo ancora come se fosse oggi l'idea nasce da un insoddisfazione il lavoro che facevo mi andava stretto un bellissimo lavoro oltretutto a tempo indeterminato però volevo decidere io del mio lavoro volevo correre dei rischi era il 2003 avevo 31 anni e ho preso decisioni molto molto forti tutto però premeditato che solo un pazzo avrebbe fatto era il 15 luglio e con emanuela stipuliamo un mutuo per l'acquisto della casa il 17 luglio due giorni dopo nasce paolo il nostro secondo figlio e dopo qualche giorno mi licenzio per aprire il nostro negozio di palloncini anche la scelta del locale è stata un'impresa eravamo esigenti e ho avuto mille difficoltà per ottenerlo quando dicevo che dovevo aprire un negozio di palloncini mi chiudevano le porte in faccia ho dovuto stipulare addirittura una fiduizione per poter avere il locale che ci piaceva e dopo tanti anni mi viene da sorridere a pensare ad un ritaglio del quotidiano del giorno dell'inaugurazione era un trafiletto di poche righe vicino alle farmacie di turno e così nacque ballon party era bellissimo coloratissimo e innovativo uno spettacolo tanti complimenti da da tutti anche i risultati sono stati eccellenti incredibili i nostri fornitori ma anche i colleghi prendevano come esempio il nostro shop da replicare altrove cos'è che ti ha portato ad abbandonare il negozio fisico ed affiancarti e totalmente alla vendita online allora andiamo con ordine era il 2003 e apriamo lo shop e sono anni di successi dieci anni dopo nel 2013 apriamo il nostro negozio online ma quasi per gioco nel 2016 apriamo invece il secondo punto vendita un cash and carry riservato agli operatori del settore ed era un bellissimo negozio di 400 metri quadri qui molti colleghi diventano nostri clienti e si inizia a fare sul serio a piccoli passi riusciamo ad emergere nonostante il periodo non proprio positivo il cash and carry va alla grande ma qualcosa ci dice che dobbiamo ulteriormente cambiare che dobbiamo fare qualcosa di diverso dagli altri orientiamo la nostra organizzazione dando la priorità all'e commerce e le vendite online superano quelle offline allora è il 2020 altra decisione importante e controcorrente chiudiamo il cash and carry prendiamo la decisione di vendere solo online mamma mia solo online l'organizzazione cambia e ricordo che eravamo consapevoli di perdere qualche cliente locale ma sicuri di recuperare qualche cliente a livello nazionale naturalmente il covid ha accelerato questo processo di cambiamento ed il mercato ci ha premiato durante il percorso ballon party c'è stato un brutto incidente ci vuoi raccontare un po cosa è successo come siete riusciti ad uscirne da questo brutto evento era il 2019 ricordo che era un sabato sera all'incirca mezzanotte e dicevo la telefonata che nessuno vuole ricevere era la polizia che mi diceva che il negozio era a fuoco corriamo arriviamo e ci sembra di stare in una scena di un film il negozio era distrutto anni e anni di sacrifici svaniti in poco tempo non credevo potesse essere capitato a noi era impossibile iniziare da capo invece abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza da parte di fornitori ma anche di clienti e si sono adoperati per aiutarci ci rimbocchiamo le maniche e riniziamo da capo e continuiamo il nostro percorso di crescita il fuoco non ci ha non ci ha fermato devo dire che qualcuno ha anche pensato male di noi non credevano all'ipotesi di un incendio doloso ma a settembre finalmente si chiudono le indagini e a questa noi cambia poco non ci interessa noi andiamo avanti più forti di prima sappiamo che da diversi anni i tuoi partnership ufficiali sono Gemar e Grabo Balloon vuoi raccontarci un po' come sono nate le vostre collaborazioni? ho iniziato a collaborare con Gemar nel 2008 come decoratore qui ho iniziato un percorso fantastico fatto di grandi soddisfazioni non sto qui a raccontarvi quanti paesi ho visitato grazie a Gemar tutti i viaggi fantastici e subito dopo è iniziata una collaborazione a livello commerciale siamo diventati distributori ufficiali per l'Italia e ora siamo riconosciuti come il negozio più completo più completo e affidabile per gli acquisti del marchio Gemar ho avuto la fortuna di conoscere questa azienda ma soprattutto una famiglia con delle persone fantastiche che hanno creduto subito in noi ecco perché mi sento un privilegiato poi è arrivata Grabo è arrivata dopo un po' avevamo bisogno di affiancare un'azienda leader specializzata nei palloncini in foil è stata dura ma anche qui siamo riusciti ad ottenere la distribuzione per l'Italia del marchio ora possiamo affermare che se vuoi trovare il più grande assortimento di palloncini Grabo devi semplicemente aprire il nostro sito Gemar e Grabo sono le due più grandi aziende europee produttrici di palloncini e loro hanno creduto in noi, noi siamo orgogliosi di questo Ok Cristian ci siamo, un'ultima curiosità c'è qualcuno che vorresti ringraziare per questi due vent'anni di successi e soprattutto che consiglio daresti ai ragazzi che stanno intraprendendo questo nuovo percorso? Vent'anni sono tanti eh Ricordo che vent'anni fa consegnavo un'infinità di palloncini per le nascite di tanti bimbi della zona ora quei bimbi hanno la patente quindi un grazie ai nostri clienti tutti, tutti, tutti sono stati vent'anni fantastici abbiamo preso decisioni impopolari abbiamo detto no quando era più comodo dire sì abbiamo conosciuto persone stupende insomma fino ad ora se devo fare un resoconto è stato molto molto positivo e abbiamo creduto nei sogni ma lo abbiamo fatto con i piedi per terra io quello che posso dire è augurare a tanti ragazzi che si avvicinano a questo mondo di avere la fortuna che abbiamo avuto noi poi la voglia di arrivare e di raggiungere gli obiettivi farà tutto il resto ma un altro segreto del nostro successo è stato quello di aver incontrato e scelto le persone giuste grazie ai fornitori ma soprattutto grazie a tutto il team Ballon Party vecchi e nuovi e l'ultimo segreto il più importante è quello della famiglia grazie a Emanuela che ha creduto sin da subito senza se e senza ma nel nostro progetto grazie Emanuela grazie a voi per questi fantastici 20 anni ci vediamo al prossimo pacco ma attenzione l'apertura dei nostri pacchi provoca gioia gioia grazie a tutti